Buongiorno a tutti, edizione straordinaria, finalmente è uscito il dato americano che aspettavano tutti con trepidazione, quello delle 14.30 e sono le 14.37 adesso. Cosa è successo? Abbiamo avuto un dato buono, richieste iniziali di sussidi di disoccupazione perché è più basso rispetto alle aspettative e alle previsioni, ed uno peggiore, l'indice della produzione della Fed di Filadelfia è andato peggio rispetto al previsto. Quindi quale dei due preparà? E adesso possono iniziare le opinioni, tutto il resto eccetera, ma noi sapete che su questo canale non ci occupiamo di opinioni, non ce ne importa niente. Vi posso far vedere determinate cose. Bitcoin, ok, eravamo arrivati a 40 barre su massimo 44 di salita per un settimo t-3 inverso, ok, abbiamo iniziato a scendere con la barra delle 12.30, stiamo continuando a scendere. Cambiato qualcosa rispetto alle aspettative dell'analisi evoluta? Zero. Stiamo oltretutto vedendo che cosa? Stiamo vedendo che siamo arrivati alla 29esima barra, quindi se si arriva qui sulla media mobile a 200 periodi e ci sarà un rimbalzo, tutto ok. Se si continua a scendere anche fino alla 44esima barra, tutto ok? E' cambiato qualcosa con i dati? Zero. Diciamolo tutti insieme, zero. Ok, bellissimo. Parliamo di DAX? Ok. E' in lateralità dalle 13 da prima? Ok. Siamo in un training range tra i 140 e i 160, 20 tic di training range. Il dato è uscito su questa candela. Cambiato qualcosa? No. Siamo a quanto? Siamo a ormai 23 barre su minimo 21, minimo 21 in media, 32, al massimo 44. Se rimbalzeremo su questa media mobile e inizieremo ad assalire su ed andremo come minimo sotto il target che ci siamo dati per il long che abbiamo già aperto come scalping una volta e che è andato già in gain con take profit e ne apriamo di nuovo un altro, sarà cambiato qualche cosa? Zero. Lo scopriremo a breve. Mib. Aiuto. Ecco, il gold. Gold. Tra poco ci arriviamo. Bene che hai scattato l'allarme così non farò questo video troppo lungo. Mib. Stessa identica cosa. Siamo andati in laterale dalle 11, ok? Non è che abbiamo fatto un training range particolare tra circa i 28.814 e i 28.768. Per Mib una cinquantina di punti è nulla, è lateralità, ok? Cambiato qualche cosa con la candela che è scattata adesso? Rossa? No. Non è cambiato? Nulla. Rispetto all'evoluta questo dato è impattato? Zero. Siamo a 23 barre e ci aspettiamo che si chiuda come minimo con una 24esima magari sempre in questa zona dove passa la media mobile. Rifaccio tutto quello che va bene oppure mi fermo, ok? Perché è uguale a DAX praticamente. Quindi abbiamo un target poi di risalita come minimo sopra i 28.830 dollari? Sì. Quindi vedremo se cambierà qualche cosa. Il target poi definitivo è qui. Quindi adesso vedete lateralità imbarazzante dopo il dato. A fine giornata, nei prossimi giorni, vedrete se arriveremo qui e se arriveremo qui, se sarà realizzata l'analisi fatta questa mattina, ok? Arriviamo finalmente all'oro? Ok. Oro. Oh! Oh! Finalmente qualcosa che reagisce al movimento che... No, in realtà no. Ok? Questa mattina alle 11.26 ero pronto con queste candele a valutare un long, ok? Poi però mi sono fermato e ho detto aspettate ragazzi, un attimino, non mi convince, perché? Eh, perché ho rivisto la centratura e poi soprattutto a un certo punto, tra l'altro ha iniziato a scendere, c'era un discorso di 20 minuti dai dati delle... no, era più sopra, scusate. Secondo, manca la chiusura lato indice. Eccolo qua. Eravamo a 20... dunque erano le... manca la chiusura lato indice... Erano le 12.46, ok? Adesso vediamo se c'è la chiusura lato indice finalmente. Chiusura lato indice, ce l'abbiamo? Oh! 29 bar, finalmente ce l'abbiamo, una bella discesa. Adesso valutiamo finalmente se terminata la discesa si potrà andare long. Quindi, anche per quello scritto, per ciò che è stato scritto nel gruppo premium, ci aspettavamo qualche cosa di diverso rispetto a quello che è successo? Una chiusura lato indice dell'ottavo T-3 per far poi partire un nuovo ciclo? No, tutto uguale. Ecco che cosa, ecco quanto impattano i dati con cui riempiono le giornali, vi raccontano un sacco di roba, eccetera, eccetera. Sulla nostra analisi evoluta, anche nel breve periodo, zero. Rispetto alle aspettative, zero. Niente, nada, nulla. Sugli indici, come detto, niente. Niente su DAX, niente su MIB, gli altri sono ancora chiusi, se non sbagliavano, alle 3 e mezza del pomeriggio. Quindi, impatto sugli indici aperti, zero, ok? Impatto su Bitcoin, nulla di che rispetto a quello che ci aspettavamo, ok? Impatto su oro, quello che ci aspettavamo. Mi preparo a fare il trade su oro, quindi scappo. Volevo solo avvisarvi che se seguirete sempre questo canale, se vi iscriverete e farete parte degli oltre 15.900 iscritti, e potete guardare oltre 2.300 video per capire se sono in gamba, ho una valida esperienza in oltre 26 anni di trading, oppure no, ok? Almeno non verrete presi in giro, non vi racconteranno che questi dati hanno un impatto particolare anche se hanno 3 stelle, ok? Perché nella realtà di fatti questo è l'impatto, zero sui mercati aperti, zero rispetto alle previsioni di Bitcoin e nulla rispetto a quello che ci aspettavamo di oro, ok? Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, la mia lo sarà sicuramente perché quando diffondo informazioni che possono essere preziose e utili per le persone e gratuitamente, spero di riuscire a fare nel mio piccolo qualche cosa di buono. Arrivederci, torno al trading. Arrivederci, torno al trading. Arrighedis, torno al trading. Arrighedis, calvacys.